Bella raga, ben ritrovati sul canale di Lubansky, siamo qui con un altro tutorial della serie di tutorial che sto portando su i killer specifici di Dead by Daylight, l'ultimo tutorial è stato su Freddy Krueger e oggi tocca alla Pig. Qui abbiamo la nostra meravigliosa chat, siamo in diretta su Twitch, stiamo registrando in diretta su Twitch dove ovviamente siete più che invitati se volete venirci a trovare. Andiamo, partiamo subito con la Pig. Un altro killer su licenza, anche questo, esattamente come Freddy Krueger e Leatherface, gli ultimi tutorial che abbiamo fatto, è la Pig che viene dal capitolo dell'Enigmista, è Amanda della serie famosa horror splatter dell'Enigmista. Allora, è un killer abbastanza particolare, molto particolare. Andiamo a fare la nostra classica introduzione, punti di forza, punti di debolezza. Allora, punto di forza, primo punto di forza della Pig, ha la possibilità di poter sfruttare la meccanica dello stealth. Esattamente, questo è il secondo killer che incontriamo, che abbiamo incontrato in questi tutorial che può avvalersi dello stealth. Anzi, due e mezzo, perché anche Myers al tier 1 ha la meccanica dello stealth, ma solo al tier 1. Lo stealth puro ce l'abbiamo con il campanaro, no? Lei ha la possibilità di avvalersi dello stealth sfruttando un suo potere secondario che le permette di abbassarsi. E mentre è abbassata, non ha raggio di terrore, quindi puoi cogliere di sorpresa i sopravvissuti. Anche se, occhio, quando sei abbassato vai un po' più letto, ma quello poi lo vediamo nell'esempio pratico. Quindi questo è il primo punto a favore. Secondo punto a favore della PIG, punto di forza, è la possibilità di potersi avvalere di una meccanica che distrae i sopravvissuti dal fare i generatori. La meccanica, nello specifico, è la meccanica legata alla trappola. Lei, quando stende un sopravvissuto a terra, può mettergli una trappola sulla testa. Trappola che ha il sopravvissuto si attiva nel momento in cui viene completato un generatore. Ok? Appena viene completato un generatore, la trappola si attiva. A quel punto, il sopravvissuto deve andarsi a togliere la trappola. Deve. Perché deve? Perché Quella trappola ha un timer, è scaduto quel timer, la trappola si attiva. E esplode la capocchia al sopravvissuto, uccidendolo istantaneamente. Per togliersi la trappola, il sopravvissuto dovrà girare nella mappa della partita, alla ricerca di determinate scatole, che vedrà evidenziate con un'aura bianca. Dovrà caricare una barra di search, dovrà un po' rovistare dentro questa scatola, e vedere se riesce a trovare la chiave. Ok? Nel caso in cui non trova la chiave, dovrà spostarsi su un'altra scatola a cercarla, se la trova, si toglie la trappola. Questa è un'ottima meccanica perché ti permette di guadagnare tempo. Quel sopravvissuto, per togliersi la trappola, non fa un generatore. Quindi se riesci ad accumulare diversi sopravvissuti con la trappola, è tutto tempo che vai a guadagnare in partita. Tempo in più che puoi sfruttare per fare ganci. E questi sono i suoi punti di forza. Non è considerato uno dei killer più forti, anzi è tra quelli considerati un po' più low tier, perché nel chase è molto banale. Nel chase ha un tipo di inseguimento estremamente standard, si tiene piuttosto facilmente in inseguimento. Ha una meccanica secondaria legata a quella dell'abbassarsi, che ti dà lo stealth, che sfruttata bene ti può dare una mano nel chase, però è un qualcosa che ti aiuta quasi più magari ai primi livelli, con i giocatori quelli con meno esperienza. Quindi magari nel tuo caso potrebbe comunque tornarti utile, infatti l'andremo a vedere nella pratica. Come al solito, io cerco di darvi magari qualche dritta su una possibile build che potete utilizzare, nel caso in cui non avete sbloccato nessun perk ancora, questa potrebbe essere una buona opzione. Dove abbiamo un sloppy butcher, macellaio approssimativo in italiano, che ti va ad applicare due stati di effetto, lacerazione ed emorragia, in modo tale che i sopravvissuti ci mettono più tempo a curarsi, l'intramontabile noed, uno dei perk più forti, tra quelli generici, che ti permette di recuperare qualcosa in endgame, nel caso in cui la partita dovesse andare male. Qui abbiamo dei perk un po' particolari. Whisper non è la prima volta che ve lo consiglio. Whisper ti avverte se c'è un sopravvissuto in un range di 32 metri rispetto alla tua posizione. Questo è buono perché si può combinare bene con la meccanica delle scatole. Se tu in quel momento vuoi cercare un sopravvissuto con una trappola, quindi tu sai che più o meno starà cercando una scatola, anche tu, dal tuo punto di vista, dalla tua prospettiva di killer, vedi dove sono le scatole. Quindi, magari avvicinandoti verso una scatola, se vedi che Whisper ti si accende, allora è probabile che ci sia un surf a fare la scatola lì. Ma non solo. Whisper può essere utile anche nelle prime fasi della partita, dove tu magari parti da abbassato, vai verso una zona della mappa, verso dei generatori, se vedi che Whisper non si accende, ok, qui non c'è nessuno, e già vai da un'altra parte. Whisper si accende, ok, c'è qualcuno. Allora mi avvicino. E vi vado a rompere le scatole. Infine, un perk particolare, questo è Jolt, in italiano non mi ricordo com'è, era una competenza del Demogorgone, ma adesso è generica, dopo che è stato tolto il Demogorgone dallo store. Questo è un perk un po' particolare, quando vai a stendere un sopravvissuto con un attacco base, quindi la Pig è perfetta, perché stendi praticamente quasi sempre di attacco base, a meno che non sfrutti quel tipo di meccanica, la meccanica dell'imboscata, che andiamo a vedere nella pratica, nel momento in cui stendi un sopravvissuto, se ci sono dei generatori che sono stati avviati in un raggio di 32 metri, quei generatori gli si applica un'istantanea regressione, esplodono e gli si applica un'istantanea regressione dell'8%. Perfetto. Altrimenti, se avete sbloccato già qualcosa, con lei, allora lei ha questo punto di debolezza forte che è il Chase, quindi se non siete molto pratici, magari con i main game, o vi trovate in difficoltà, potreste valutare di mettervi dei perk che vi aiutino nel Chase. Un Forza Brutale, un inganno, un Enduring, un Furia dello Spirito, potete metterci un po' a quello che volete, un intervento corrotto per tenere i generatori all'inizio da controllare minori, un Ruin per fargli perdere tempo a cercare il Totem e dargli un po' di noglia all'inizio, un Pop, un BBQ per vedere dove sono i serve che magari stanno in giro per la mappa a cercare di togliersi la trappola. Insomma, hai tante opzioni, la Pig dipende molto dal tuo stile di gioco, quanto si senti confident nel Chase e quant'altro. Cercate di mettervi una build che possa supportare lo stile di gioco che volete applicare. Ha anche degli addon abbastanza particolari che vi possono condizionare la partita, quindi anche qui scegliete quelli che preferite in base al tipo di partita che volete fare. Andiamo a vedere al volo la Pig che in game non c'è molto da farvi vedere. Vi farò vedere giusto questa meccanica dell'imboscata come poterla sfruttare un po'. Tra l'altro c'è una combo un po' particolare che si può fare con i perk. Se uno vuole sfruttarsi quella cosa di Whisper c'è una combo particolare con Sorveglianza e Sevizia del Dottore o Monitor and Abused in inglese. Dato che quel perk ti va a togliere 8 metri di raggio del terrore quando non sei in chase ti permette di poter andare a cogliere di sorprese i serve inizialmente correndo quindi guadagnando del tempo dato che tu mentre sei abbassato vai più lento. Se tu corri stai andando verso un generatore appena ti si accende Whisper che sono 32 metri tu capisci che c'è qualcuno che sta facendo del gen lì e ti puoi abbassare prima in questo modo guadagni del tempo in corsa e il sopravvissuto non sente il tuo raggio del terrore perché se tu utilizzi Whisper secco e corri nel momento in cui vai verso un gen e ti si accende Whisper anche il serve però sente il tuo battito perché lei ha 32 metri di raggio del terrore quindi potrebbe comunque sia intuire che stai arrivando se invece non utilizzi questo tipo di di combo che è particolare comunque il mio consiglio è magari di iniziare la partita direttamente da abbassato direttamente da abbassato vedi un po' dove pensi che stanno i serve una cosa che potresti fare che io cerco quasi sempre di fare a dire la verità è che se punti un generatore che magari sta dentro una jungle gym che non è il caso in modo come ci sono sponati questi gen ma facciamo finta facciamo finta che lì ci sia un sopravvissuto a fare quel generatore va bene tu puoi fare diverse cose se il sopravvissuto non si è accorto che della tua presenza puoi o coglierlo di sorpresa con l'imboscata quindi facendo così sfruttando lo scatto dell'imboscata per andare a colpirlo oppure puoi alzarti e andare di hit normale oppure c'è una cosa un trucchettino che potenzialmente ti potrebbe aiutare a prendere direttamente il serve dal generatore questo perché perché nel momento in cui tu ti rialzi da questo da questa posizione lo stealth non se ne va via istantaneamente c'è un delay c'è un piccolo delay c'è un piccolo delay che tu puoi sfruttare per cogliere di sorpresa il serve serve che potrebbe sentire comunque sia se sta molto attento il suono della lama se tu ci hai fatto caso quando ti alzi si sente questo se lui però non lo sente potresti coglierlo di sorpresa cerchi di avvicinarti il più possibile no questa ad esempio non è proprio una buona posizione dove grabbare tipo qui invece sarebbe stato ottimo metti conto che ci sta un gen qua classica proprio posizione tu ti avvicini cerchi di non farti vedere vabbè sono entrato un po' goffo facciamo finta che stai arrivando da qui fai così hop e cerchi di grabbarlo cerchi il grab istantaneo vi assicuro che vi verrà soprattutto per te che magari stai ancora agli inizi sopravvissuti quindi sono molto distratti stanno poco attenti vi assicuro che ne grabberete tantissimi così se vi sfruttate bene questa questa meccanica per il resto per il resto chase blando mind game a go go quello che potete provare o fare in un loop è questo allora rally vieni qua cortesemente se tu stai dietro un sopravvissuto e vuoi provare a prenderlo con l'imboscata puoi provare a fare così che ti stendi carichi è normale che se tu prendi una direzione netta per esempio tutto sulla destra fin da subito se il sopravvissuto attento che fa? se sta sotto pallet come in questa situazione prende e ti abbassa il pallet no? quindi cosa puoi fare rally non mi abbassare il pallet cortesemente grazie quello che puoi fare è fare una finta cioè fai finta di andare per di qua cambi direzione e lo vai a hittare questo ovviamente nel caso in cui il sopravvissuto ti rimane bloccato nel pallet e è un caso che dovrebbe succederti spesso se giochi se stai insomma nella fascia un po' bassa di rating su dbd quello che ti può succedere invece nella fascia un po' più alta è che appena ti abbassi sul loop e vami sotto pallet rally fai quello che fanno un po' tutti quando la pig si abbassa ovvero appena si abbassa il surf prende e se ne va su un altro loop completamente sfrutta il fatto che tu ti stai per abbassare per prendere distanza quindi come devi fare se il sopravvissuto fa così no tu che fai è semplice se vedi che il sopravvissuto fa così o pensi che il surf fa così tu come ti abbassi ti rialzi instant e gli vai dietro magari lui per lasciare quel loop si ritrova in una situazione in cui è fuori posizione non ha un loop vicino o magari ne trova uno peggio quindi stai attento sempre comunque a quello che fa il sopravvissuto in questi casi altra cosa importante è che comunque non dimenticarti del fatto che quando ti abbassi tu vai in stealth cosa comporta questo che non hai la macchia rossa non hai la macchia rossa davanti a te che può indicare al sopravvissuto dove tu stai passando se per esempio il surf e ti rimane qua dietro tu potresti abbassarti un attimo rialzarti e magari coglierlo di sorpresa proprio perché non hai la macchia rossa e lui non se lo aspetta quindi cerca di sfruttare ogni tanto questa meccanica dell'abbassarsi per cercare di guadagnare qualcosa nel chase anche se non è proprio semplicissimo più o meno questo è tutto mi raccomando ricorda sempre di piazzare le trappole ci sono diverse come posso dire diverse teorie sull'utilizzo esatto delle trappole a livello del ma le trappole le devo piazzare tutte fin da subito qualcuna si qualcuna no o aspetto ancora di più allora lì non c'è esatto non c'è proprio una risposta esatta perché dipende un po' dalla partita nel senso quando è che inizi a stendere i sopravvissuti quando è che inizi a mettergli le trappole qual è la fase della partita che ti interessa di più rallentare se ti interessa di più rallentare la prima fase della partita lì metterai sempre le trappole sempre appena estendi uno trappola ne estendi un altro trappola ne estendi un altro ancora trappola sempre in modo tale da guadagnare più tempo possibile fin dall'inizio e diciamo che più o meno è un è un ottimo metodo va benissimo se vedi che fai ganci veramente facili potresti anche giustrartela un po' meglio che ne so già ne estendi uno trappola poco dopo ne estendi un altro e stanno ancora cinque generatori a quello a cui ha piazzato la trappola prima neanche gli è scattata lì potresti anche pensarci di non mettergli la trappola a quello per tenertela magari per i sopravvissuti successivi ci potrebbe stare non sarebbe comunque un errore e l'unica cosa che devi stare un po' attento con lei per non sprecare trappole è il caso in cui tu hai ancora una trappola e vai a stendere un sopravvissuto che si è già fatto due ganci mi raccomando noi andare a mettere la trappola su quel sopravvissuto sarebbe sprecata dato che una volta che lo vai a prendere muore ok quindi stai un po' segui un pochino il counter dei ganci che stai facendo sui vari sopravvissuti per non sprecare la trappola altra cosa magari se tu vai a mettere la trappola su un sopravvissuto puoi non tunnelarlo è inutile andresti a sprecare quanto di buono fatto da quella trappola col fatto che già di per sé la trappola lo tiene lontano dai generatori sarebbe un po' sprecato andare a mettere la trappola per poi metterti a tunnelarlo quindi se c'è un sopravvissuto che magari già hai mandato già si è fatto un gancio lo stai per appendere la seconda volta sei un po' in difficoltà e pensi che forse ti conviene tunnelarlo non gliela mettere la trappola in modo tale che almeno non te la sprechi se tanto poi te lo vuoi tunnelare e riappendere subito dopo quindi devi ragionarci un po' con lei puoi creare situazioni antipatiche se tu riesci per esempio a mettere fin da subito diverse trappole decidi fin da subito di piazzare quasi a tutti la trappola si possono creare situazioni estremamente difficili antipatiche per i serve perché devono fare delle scelte se tu vai ad appendere un sopravvissuto ci sono ad esempio due sopravvissuti con la trappola attiva e uno che non ce l'ha ed è ferito oppure sano ha provato a fare il save e tu l'hai cacciato via l'hai colpito lì si crea una situazione complicata perché i sopravvissuti che possono fare il save sono quelli con la trappola attiva che fanno vanno a perdere tempo a fare il salvataggio rischiando poi di non fare in tempo a togliersi la trappola oppure lasciano quello al gancio e vanno a togliersi la trappola insomma puoi creare delle situazioni molto antipatiche con questo killer ed è un po' l'obiettivo della pig devi crearle queste situazioni devi riuscire a crearle perché se no altrimenti è un killer piuttosto banale da affrontare e questo è tutto a grandi linee questo è tutto ah un'altra cosa importante le trappole comunque usatele sempre durante la partita prima che vengano finiti i generatori perché una volta finiti i generatori anche se voi andate a mettere una trappola su un sopravvissuto quella trappola non si attiverà tu gliela metti ma non si attiverà mai dato che i generatori sono già stati completati e il sopravvissuto potrà uscire scappare tranquillamente con la trappola diverso invece è il discorso nel caso in cui vi hanno chiuso i generatori però c'erano dei sopravvissuti con una trappola in testa i sopravvissuti con la trappola attiva in testa non possono scappare dal cancello principale se lo fanno la trappola esplode quindi prima di poter uscire si devono togliere la trappola altrimenti devono scappare dalla botola se un sopravvissuto con la trappola attiva prende la botola può scappare dal gate no questo tenetelo a mente quindi per quello che comunque si ha la tendenza sempre ad usare il prima possibile le trappole proprio per non rischiare di arrivare a fine partita con delle trappole in più che non hai usato non hai sfruttato e che ormai non serviranno a nulla questo è importante e questo è tutto se avete dubbi domande e quant'altro come al solito vi invito a porle sotto nella sezione commenti oppure passateci a trovare qua su twitch dove verrete accolti a braccia aperte da una fantastica community dal sottoscritto e potete fare tutte le domande che volete tutti i dubbi che volete su qualsiasi argomento ambito killer serve perk quello che volete di dbd per oggi è tutto e vi aspetto al prossimo video tutorial che riguarderà il clown e vi aspetto Grazie.